Oggi nel municipio a Francavilla si presenta questo interessante progetto MoveCoin. Assessore, vogliamo spiegare com'è nata questa iniziativa? Allora, l'iniziativa è un'iniziativa bellissima che ci è stata suggerita dall'architetto Cipressi e noi chiaramente come amministrazione siamo attenti a queste tematiche perché Cipremi in modo particolare promuovere la mobilità sostenibile e quindi abbiamo sposato a pieno questo progetto. È un progetto che premia i cittadini virtuosi, i cittadini che fanno spostamenti in modo ecologico, quindi a piedi piuttosto che in bicicletta. Speriamo che il progetto abbia successo e ci auguriamo sicuramente che sia così. Tutto questo funziona con un'app che è scaricabile su un telefonino. È molto semplice registrarsi appunto come abbiamo detto sull'app MoveCoin e dopodiché scaricare l'app dedicata al ticket, quindi è un'app che si chiama MoveCoin Ticket. Chiaramente deve prima percorrere dei tratti di strada in maniera ecosostenibile, quindi o camminando o pedalando. A questo punto vengono generate delle monete e vengono accreditati sul conto virtuale dell'utente. L'utente avendo quindi un portafoglio crescente, perché cammina e perché pedale, quindi è virtuoso, spende queste monete comprando un ticket, comprando un buono, che poi utilizza quando sale sull'autobus. Mostra al controllore o all'utente il biglietto attraverso l'app, il controllore lo convalida e di conseguenza l'utente ha utilizzato il proprio movimento per comprare un servizio del comune.